Elezioni 2022, manca sempre di meno. Che voi siate tra coloro che si rechieranno alle urne con le idee chiare e decise o che siete tra i sempre più numerosi che voteranno turandosi il naso, c'è una domanda comune che dovrete porvi. Ma come si vota? Innanzitutto partiamo dalla grande novità. Per la prima volta nella storia d'Italia voteranno per il Senato anche i diciottenni. Saranno dunque due le schede che verranno consegnate a tutti gli elettori che si presenteranno al seggio, per l'appunto una rosa per la Camera dei Deputati e una gialla per il Senato. Ciascuna scheda è composta da riquadri rettangolari con indicato in alto il nome del candidato uninominale. Tra questi risulterà eletto chi prenderà più voti, visto che la legge elettorale con cui andiamo al voto prevede l'assegnazione di un terzo dei seggi con il sistema maggioritario. All'interno del singolo riquadro l'elettore troverà poi inoltre alcuni nomi vicino al simbolo dei partiti. Si tratta delle liste bloccate per i candidati ai collegi plurinominali con cui si eleggeranno i due terzi dei parlamentari. In questo caso l'elettore non potrà esprimere alcuna preferenza, visto che i seggi verranno ripartiti tra i candidati in ordine di lista in proporzione ai voti ricevuti nel collegio. Per votare ci sono più opzioni? Primo modo, in ciascuna scheda si può barrare il nome del candidato al collegio uninominale. In questo caso il voto espresso viene anche ripartito per quanto riguarda il collegio plurinominale tra le liste che lo supportano in proporzione ai voti ottenuti nel collegio stesso. Secondo modo, si può barrare il simbolo della lista alla quale vogliamo assegnare la preferenza per il collegio plurinominale. In questo caso il voto va anche direttamente al candidato del collegio uninominale supportato da quelle liste. Terzo modo, è possibile anche barrare sia il candidato al collegio uninominale sia il simbolo di una lista, purché il partito al quale vogliamo assegnare la nostra preferenza sostenga quel candidato. Infatti, a differenza delle elezioni comunali, non è prevista la possibilità di voto disgiunto, ovvero l'elettore non può votare un candidato al collegio uninominale supportato da alcune liste e poi votare una lista che non supporti quel candidato. In questo caso, infatti, il voto risulterebbe nullo.